Sara a Los Angeles, nata nel posto giusto. Francesco, Roma, nato nel posto giusto. Anche Samuel è nato nel posto giusto, a Nairobi. Per molti l'Africa non è il posto giusto dove nascere. Le mamme partoriscono in condizioni inadeguate. I bambini hanno il futuro segnato. World Friends ha costruito il NEMA Hospital, un centro sanitario per le baraccopoli di Nairobi in Kenya. Sostieni il reparto maternità e fai nascere i bambini di Nairobi nel posto giusto. Invia un SMS al 45593. Grazie.